Le comunità indigene del Canada si sono riunite per una cerimonia in onore delle oltre 700 tombe anonime appena scoperte nell'ex collegio Marieval. Fino agli anni 90 i bambini di queste comunità venivano strappati alle famiglie per frequentare scuole gestite da missionari cattolici dove erano costretti ad abbandonare la loro cultura, ma non solo, qui sono avvenuti anche abusi e maltrattamenti. Mi ricordo quando ero bambina e celebravamo dei funerali, camminavamo lungo la stradina e ci dicevano non andare qui, non andare lì, pensiamo che ci siano delle tombe là sotto, siamo solo all'inizio, questa è solo la seconda scoperta. Dopo il rinvenimento altre due chiese cattoliche sono state incendiate nei territori indigeni del Canada occidentale. Il primo ministro canadese Trudeau si è scusato per le barbarie che la popolazione indigena ha subito nel passato e ha chiesto a Papa Francesco di andare in Canada per scusarsi pubblicamente anche lui. Intanto il governo ha promesso 4 milioni di dollari per continuare gli scavi per riportare alla luce la verità.